Rientrati nella notte da Mosca dopo la brillante vittoria in Champions League contro il CSKA e subito in campo questa mattina, non di buon'ora per carità, ma subito in campo per preparare il match di sabato contro un'altra italiana che ha fatto bene in Champions League, cioè il Napoli, che ieri ha battuto il Villareal. Una sessione di allenamento con il gruppo diviso in due gruppi e con alcune novità importanti. Iniziamo a dire che chi ha giocato, la maggior parte della gara oggi, ha effettuato del lavoro esclusivamente di recupero come normale che sia. Per gli altri invece riscaldamento, esercitazioni di natura tecnica, un lavoro specifico sul possesso palla e poi una serie di partitelle. Ma la notizia riguarda i presenti in questo gruppo con tre volti nuovi, potremmo definirli così, perché in realtà per alcuni è proprio il primo passi insieme ai compagni, per la prima volta abbiamo visto Andrea Poli lavorare con il resto della squadra, abbiamo rivisto dopo l'intervento Maicon e ritorna invece Dejan Stankovic. Quindi Poli, Maicon e Stankovic in gruppo hanno effettuato questa sessione di lavoro. Una gran bella notizia in questa giornata dopo la vittoria di Champions League, anche il ritorno in gruppo, anche se siamo ai primi passi per carità, ma intanto non li vediamo più lavorare in differenziato. Cosa che invece hanno fatto quelli che sono ancora i box, quindi lavoro personalizzato per Cordoba, per Tiago Motta, per Snyder, per Ranocchia e per il portiere Viviano. Del gruppo che ha partecipato alla trasferta di Mosca, oggi non c'erano Romano, è ritornato con la primavera, così come Crisitich che dopo il debutto ufficiale in maglia nero azzurra oggi è andato con i ragazzi della primavera per la gara di Next Generation Series. Notizie invece dall'infermeria per quanto riguarda Pazzini che si è sottoposto a degli accertamenti che hanno evidenziato questa leggera distorsione alla Caviglia dopo il colpo subito da Tergo, se non ricordo male, da Mamai o da Aldonin, mentre stava calciando. Da lì poi una caduta un po' innaturale e il fastidio alla Caviglia. Questo è il menù della giornata di oggi, come vedete tante belle notizie e tante notizie importanti. Domani il gruppo si ricompatta per il primo dei due allenamenti di preparazione alla sfida di sabato sera contro il Napoli. Per tutte le altre notizie invece sulla giornata odierna, comprese quelle relative alla celebrazione del record di Capitan Zanetti da parte della società, l'invito è quello di seguire gli appuntamenti con informazioni su Interchannel.